La seconda batteria in vista della coppia 176, sempre 11 le coppie in vista Questa è la seconda batteria Ok, teniamo le coppie, potete rimanere all'angolo, via, a vostra sinistra Per favore, a voi, a voi, a voi, a voi, a voi, a voi, a voi A voi, a voi, a voi, a voi, a voi, a voi Voi, a voi, a voi, a voi, a voi, a voi. Ora aiutiamo magari. Ora aiutiamo. Ora aiutiamo. Ora aiutiamo. Ora aiutiamo. Grazie. Grazie. Grazie.